Provate ad immaginare questa scena è inverno, in genere fa freddo, ma oggi invece è una bella giornata di sole e così decidete di andare con la vostra famiglia, con la vostra moglie, la vostra fidanzata, la vostra compagna e magari con i vostri bambini a fare una girata sul lungomare siate lì belli spensiati tranquilli, il sole magari si sta incendiando, si sta tingendo di rosso il mare si sta colorando col tramonto e in tutta questa spensieratezza, in questo silenzio, in questa pace a un certo punto un rumore vi disturba, vi rendete conto che è la suoneria del vostro cellulare così prendete la tasca del cellulare immediatamente, istintivamente, guardate chi è ed è il vostro capo sapete già che in quel momento qualcosa andrà storto e allora non potete fare altro che rispondere non potete fare aspettare il vostro dettagliatore di lavoro così premete il vostro tasto verde del cellulare, quello a forma di telefonino e mettete il vostro apparecchio telefonico all'orecchio istintivamente viene da rispondere chi è, ma sapete chi è dall'altra parte e quella voce che senza nemmeno sapere tante cose, senza nemmeno domandarvi dove sei, cosa sta facendo ti dice soltanto ci sarebbe bisogno magari fra un paio d'ore che tu venga al lavoro c'è un impegno importante, c'è una riunione a cui non può mancare ci sono delle novità che assolutamente devi ascoltare oppure magari manca personale e proprio c'è bisogno di te te, in tutto il mondo, proprio te, devi andare a lavorare quindi cosa fai? dici subito di sì, anche se non ho la testa vorresti dire di no perché in quel momento non vorresti privartene di quel momento di pace e serenità insieme ai tuoi cari così attacchi, chiudi la chiamata, chiaramente hai risposto positivamente rimetti il telefono in tasca e fai la strada per tornarti a casa perché magari avevi bisogno un po' di uscire fuori dalla realtà e volevi andare in posti più tranquilli dove magari c'era meno gente come nella pubblicità, un panino al volo si mangia di fretta, si saluta i propri cari e si va a fare il nostro turno lavorativo poi dopo il lavoro tornate a casa vostra moglie sta dormendo mettete a leggere un paio di pagine di libri o se ne avete la forza e l'energia il sonno vi fa attendere, non riuscite a addormentarvi subito e poi vi mettete sotto le coperte al calduccio e la vostra testa incomincia a immaginare vi domandate se magari questa è la vita che fa per voi vivere in città con il caos, con il traffico con i soliti discorsi cioè quella voce che è diventata un po' fastidiosa che si chiama coscienza che ti dice ma stai facendo veramente la cosa giusta stai facendo la vita che ti appartiene stai facendo lo stile di vita che vorresti fare nel raro caso in cui la vostra risposta è no, cazzo adesso basta ah, cazzo ce l'ho aggiunto io non fa parte del titolo del libro Simone Perotti adesso basta l'autore in questo libro parla proprio di queste tematiche e anche lui si faceva queste domande anche lui si era reso conto che la sua vita non era quella che voleva non era più lui al timone della propria esistenza Simone Perotti lo dice chiaramente lui faceva comunque una bella vita aveva un buono stipendio aveva tanti amici perché comunque si occupava di pubbliche relazioni mi dava tantissime conoscenze anche addirittura in politica però non erano le amicizie che desiderava lui magari erano quegli amici di lavoro quelle persone che gli erano state messe accanto nell'ufficio il suo sogno inizialmente era quello di fare carriera era quello di arrivare in alto di diventare manager quindi aveva studiato aveva dedicato la sua vita per questo scopo e quando finalmente ci è riuscito si è reso conto che quando era nel suo ufficio dopo aver parlato con il proprio capo e quindi doveva essere contento con la sua bella letterina a mano di promozione perché aveva raggiunto il suo obiettivo per il quale aveva lavorato tanto aveva studiato tantissimo da quel momento quando lui si rapporta con i colleghi di lavoro quando magari entra in una riunione quando magari deve aspettare fuori da una porta è proprio in quei momenti che lui pensa riflette e lui si immagina di essere su una barca a vela perché questa è la sua passione la sua passione è il mare la sua passione è il navigare inoltre vorrebbe dedicare il tempo anche ad un'altra passione che è quella della scrittura scrivere libri proprio come questo vi vado a leggere il quarto di copertina il retro il libro che ha introdotto in Italia il fenomeno del downshifting scalare marcia ralentare cambiare vita quindi il libro parla proprio di questo di questo termine anglofono del downshifting che in italiano vuol dire proprio scalare marcia cioè fare una vita con ritmi più bassi e anche magari con uno stipendio più basso con meno soldi anche senza uno stipendio ma con un'entrata nostra perché non abbiamo bisogno di tante cose in realtà possiamo rinunciare a cose più superflue e quindi risparmiare soldi e magari possiamo produrci noi la roba di cui abbiamo bisogno il parere dei lettori libro giusto al momento giusto un vademecum e un brevario da rileggere oltre che da leggere un libro ricco di messaggi importanti di ottimismo e di vita chi è Simone Perotti? classe 1965 per 19 anni ha lavorato intensamente credendo nel modello che gli era stato impartito studiare, laurearsi, specializzarsi fare carriera è stato manager nei importanti multinazionali poi ha deciso di cambiare non è ricco non ha soldi per vivere di rendita oggi scrivere la sua vita ha pubblicato 12 romanzi e saggi e navigare è la sua passione adesso basta è stato pubblicato nel 2009 ed è diventato un long seller 18 edizioni quando non è in mare vive in Liguria vicino alla Spezia ecco partendo proprio dal fatto che il libro è stato scritto nel 2009 leggerlo oggi dieci anni dopo sembra di fare quasi la cosa che si vede sui social su facebook il confronto fra come siamo oggi e come eravamo dieci anni prima beh se pensiamo che Simone ha scritto questo libro dieci anni fa c'è da pensare molto perché comunque sia ci ha visto lungo ci ha visto veramente chiaro e ce lo fa capire perché fa un'analisi della società forse un po' spetata forse un po' cinica però se siamo onesti con noi stessi non possiamo che dargli ragione effettivamente è proprio così la realtà spesso viene anche criticato l'autore perché quando si viene a conoscenza del lavoro che faceva del suo stipendio importante magari viene da dire beh è facile tu guadagnavi che ne so 6.000-7.000 euro quindi con questi soldi lì si può cambiare vita ma io penso in realtà sia molto più difficile quando si ha tanto e quando si ha una posizione così importante nel sistema quando si è a contatto anche con la politica quando siamo stimati perché abbiamo tantissime conoscenze che magari ci apprezzano che apprezzano il lavoro che abbiamo fatto fino adesso il nostro ruolo sociale e lì credo sia veramente difficile guardarsi allo specchio e dire adesso basta voglio rinunciare a tutto quello che finora ho messo da parte con la mia fatica insomma di fatto lasciarsi tutto alle spalle e provare a fare una nuova vita un salto nel buio e non sai cosa ti attende hai la tua vita dietro e sai che finora ti ha dato bene o male uno stipendio anche se non era la vita che ti ha reso felice però ha una vita sicura una vita tranquilla e per lui questo è veramente difficile mollare tutto magari chissà quanta gente gli avrà dato del matto vi metto anche un link in descrizione di un TED Talk e come ho fatto per molti potenziali vi consiglio di andare a vedere questi video perché sono veramente importanti io sono entrato proprio in contatto con l'autore grazie ad uno di questi video dove lui faceva una conferenza e spiegava proprio l'importanza del downshifting vi metto il link in descrizione se pensiamo ad oggi Simone Perotti avendo scalato marcia ha avuto la possibilità di fare tantissime cose proprio come si leggeva nel quarto di copertina di scrivere tanti tanti romanzi tanti saggi e questo vi è diventato un long seller ovvero per tanti anni ha continuato a vendere inoltre ha partecipato a molte interviste perché ha creato una curiosità essendo stato lui uno dei primi a parlare pubblicamente del downshifting ha navigato molto ha fatto rotte molto lunghe e ha realizzato molti dei suoi sogni ha raggiunto posti che voleva visitare con la sua barca a vela si è comprato una casa in mezzo al bosco da ristrutturare e l'ha ristrutturata lui e lui non aveva mai preso un martello non aveva mai piantato un chiodo quindi ha dovuto riniziare da zero e nel libro parla proprio anche di questo della soddisfazione di farsi le cose da soli perché a volte crediamo che non ne siamo capaci perché magari c'è bisogno di farci dire da qualcun altro come bisogna fare perché magari prima bisogna fare tutto un processo di crescita e invece lui soltanto documentandosi soltanto guardando magari dei video si è messo all'opera e ci ha provato magari qualche volta anche sbagliato ma poi ha fatto anche tante cose utili si è fatto tante cose da solo e questo gli ha portato anche un grande risparmio questo ha contribuito al downshifting perché magari se non fosse stato capace avrebbe dovuto chiamare un esperto e spendere tantissimi soldi non vi posso raccontare tantissime cose del libro vi posso raccontare soprattutto le prime 90 pagine che fanno un'analisi della società perché non posso perché sennò vi toglierei il gusto della lettura perché sennò vi toglierei la possibilità di immaginare e di sognare a occhi aperti mentre state leggendo le righe di questo libro libro che ci insegna che siamo liberi di non tanto liberi da lui fa questa distinzione perché dice puoi essere libero da qualcosa ma poi saresti libero di fare qualcosa perché magari arrivi alla pensione a 70 anni ormai no? in età molto avanzata e non hai più le energie per fare quelli che erano i tuoi sogni in realtà ormai sei invecchiato e non ti puoi dedicare più alle tue passioni come vorresti con quell'energia e con quell'intensità lui l'ha fatto a 40 anni poteva farlo anche prima quindi ha sentito la necessità di informare insomma dobbiamo essere liberi di non liberi da e bisogna farlo magari quando non abbiamo ancora le energie non vi dico perché probabilmente non lo farò nemmeno io di fare questa scelta così estremistica di lasciare un lavoro che ormai non si trova più però questo libro ci dà molti molti spunti per riflettere e magari ci dà la possibilità di avere una scelta davanti magari solo di pensarci insomma questa non è una vera recensione di un libro è soltanto condividere con voi un punto di vista è soltanto fare l'analisi della società è soltanto fare introspezione e parlare con noi stessi beh insomma sembra poco io insomma ve lo consiglio è un libro di facile lettura è un libro di 187 pagine questa è una reedizione dove l'autore fa anche un po' il punto della situazione che dire per 10 euro secondo me ne vale veramente la pena è uno dei libri che va assolutamente letto e analizzato con attenzione e con massima sincerità con noi stessi Simone Perotti adesso basta lasciare il lavoro e cambiare vita edito da Chiare Lettere io ve lo consiglio ciao alla prossima